Intanto partiamo da un dato che credo sia inequivocabile. In questo Paese la sanità pubblica sta soffrendo di ritardi, di attese interminabili, di ospedali che sono senza personale, fuga dei medici. Siamo in una situazione che è letteralmente al collasso e sicuramente, come raccontava l'onorevole Luizzo, la relatrice di maggioranza, è dovuto anche al fatto che in questi anni la sanità pubblica non è stata finanziata a dovere, almeno fino alla pandemia. Quindi c'entrano governi di centro-destra e governi di centro-sinistra, senza nessun dubbio, chi più chi meno. Però era stata un'inversione di tendenza proprio durante il Covid perché pensavamo che questo Paese avesse capito. Ma c'è un tema che non si può rinviare, che riguarda il qui ed ora e riguarda persone che non riescono più a curarsi. E questo, come abbiamo ascoltato io, l'onorevole Luizzo, la maggioranza, il governo, il sottosegretario Gemmato, i colleghi e le colleghe, è derivante dal fatto che il sistema sanitario nazionale è sottofinanziato. Ce l'hanno detto tutti. Hanno detto ovviamente che doveva essere rese più efficienti le spese, una riorganizzazione, ma c'è un tema di spese e di investimenti nel sistema sanitario nazionale che è sottofinanziato rispetto alla media europea, che fa sì che la sanità pubblica rischi il collasso e che ci renda i fanalini di coda, purtroppo, rispetto agli altri Paesi. Lo mette nero su bianco la Fondazione Gimbe, che nel 2022 colloca l'Italia al fanalino di coda dei Paesi europei. Parliamo di un gap di 810 euro pro capita a persona per questo Paese rispetto alla media europea e di 50 miliardi circa di ritardo, circa 47,7, una cifra mostruosa. Sono queste cifre che fanno in modo tale che ci siano due anni d'attesa per la momografia, un anno per l'attacco, un anno per l'ecografia. E questo Paese purtroppo ha avuto, sì, governi probabilmente che avrebbero dovuto finanziare maggiormente il sistema sanitario nazionale che oggi mette a rischio la sua resilienza e quindi compromette gravemente anche la capacità di rispondere alle esigenze della salute del Paese. Basti citare le oltre 4 milioni di persone che non riescono più a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non hanno i soldi per farlo. O i pediatri, i medico di base che non si trovano nelle aree interne, i pronto soccorso in cui c'è una fila interminabile, l'autonomia differenziata, l'ultima ciliegina sulla torta che spaccherà ancora di più l'Italia e come ha citato il Presidente e l'Ordine dei Medici e dei Chirurghi, non Marco Furfaro ma Filippo Anelli, che farà in modo tale che darà un colpo definitivo alla sanità pubblica, a chi vuole curarsi al Sud. E' una situazione drammatica purtroppo, una situazione drammatica che con il Governo, che anziché invertire questo trend lo aggrava, lo aggrava anche a dispetto di quello che è stato raccontato perché la propaganda io credo sia stonata anche per chi vuole fare politica in campagna elettorale, soprattutto per quella maggioranza degli italiani che non va più a votare e non ci credono più. E a volte hanno anche ragione, sapete, perché quando si racconta del più grande investimento della storia si fa una furbizia perché tutti i Governi hanno sempre fatto il più grande investimento della storia in termini assoluti, ovviamente, perché il fabbisogno finanziario del sistema sanitario nazionale cresce e quindi chiaramente i Governi sono costretti a mettere di più. Il problema è che si mette sempre troppo poco e non abbastanza per le risorse che servono. L'aumento del Governo di circa 11 miliardi in tre anni basterà a malapena al rinnovo dei contratti del personale e il resto che rimane sarà eroso dall'inflazione che galoppa. È una situazione tragica che peggiorerà. Per questo, come hanno chiesto in tutte le audizioni, noi abbiamo presentato una proposta di legge che provasse a trovare ascolto di quel grido che ci chiede di aumentare le risorse in sanità pubblica e non far andare la sanità al collasso, magari per favorire quella privata. Per questo abbiamo presentato la legge Schlein, che è un vero e proprio schlock, ma non è una legge del Partito Democratico, è una legge che recepisce anche le indicazioni delle regioni, perché ci sono proposte di legge presentate da regioni centro-sinistra, ma anche di centro-destra. La stessa regione Piemonte ha presentato un'iniziativa legislativa molto simile che chiede, in linea con le raccomandazioni della Fondazione Gimbe, ma soprattutto dell'Ocse, di far arrivare il finanziamento in sanità pubblica a pari al 7,5% del PIL, in modo tale da sbloccare così nuove risorse non per conservare un sistema malato, ma per implementarlo, per investire, per potenziarlo a favore dei cittadini per i quali oggi non vi dice più l'articolo 32 della Costituzione, l'unico articolo in cui prevede l'aggettivo fondamentale, dove non si parla di cittadini ma di individui, perché il diritto alla salute è fondamentale per la qualità della vita di una persona, altrimenti non c'è nessun altro diritto che possa tenere, purtroppo. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che con quelle risorse faceva sì che quindi ci fosse il potenziamento, il rinnovamento e soprattutto lo sblocco delle assunzioni, un terribile vincolo introdotto dal Governo Berlusconi nel 2009 con Ministra Giorgia Miloni a proposito del passato, che si guarda un po' a senso unico, senza guardare chi c'era anche di questo Governo in quei governi precedenti, che avrebbe la possibilità di frenare quella fuga dei medici che abbiamo nel nostro Paese, attratti sempre più dalla sanità privata, sempre per un vostro provvedimento, la flat tax incrementale, e di mettere risorse e venire meno a quel brutto fenomeno dei cettonisti, che fa sì addirittura che lo Stato paghi di più che assumere un medico a tempo indeterminato. E poi ci sono misure precise per abbattere le liste d'attesa, i cui tempi attuali sono una piaga, come sanno bene i cittadini, e ridefinendo l'intero meccanismo all'insegno della trasparenza, rendendo i tempi d'attesa pubblici, cambiando poi i CUP e costruendo un sistema di prenotazione unico a livello regionale o infraregionale. Lo abbiamo fatto questa proposta di legge perché pensiamo che queste non siano spese, ma investimenti veri e propri, cioè che possano fare in modo che lo Stato possa, attraverso la prevenzione, diminuire poi in futuro le spese per la cura dei propri cittadini. Lo abbiamo fatto mettendo delle coperture che, abbiamo sempre detto, potevano essere all'ordine del giorno della discussione. Abbiamo presentato un omendamento, date i rilievi e le criticità della maggioranza, che sembra diventato un plotone di ragionieri più attenti al bilancio che di rappresentanti parlamentari che dovrebbero fare delle scelte politiche. Ma noi non siamo, guardate, indisponibili a discutere di una copertura economica. Intanto dobbiamo metterci d'accordo su un aspetto. Se le raccomandazioni dell'Ocse sono utili, cioè il fatto di arrivare al 7,5% del PIL almeno entro quattro anni, discutiamo insieme su come coprirlo. Noi abbiamo proposto di redefinire, ovviamente, il bilancio dello Stato al netto delle spese sociali una quota riservata alla spesa sanitaria. Certo, se abolite il redditometro non ci saranno risorse maggiori per l'evasione fiscale. Certo, se fate condoni per miliardi di euro è chiaro che quei soldi potrebbero essere messi nella sanità pubblica. E non solo. Il decreto importantissimo, definito così dalla relatrice di maggioranza, è un decreto in cui le uniche misure sulle liste d'attesa sono a vantaggio del privato. A vantaggio del privato. Non solo non c'è stata una collaborazione con le regioni, che sono gli enti di prossimità, che si sono lamentati del mancato confronto e considerano quel decreto astratto e privo di coperture. Le regioni italiane, alla loro conferenza, definiscono il decreto da voi definito importantissimo, astratto e privo di coperture. Ma non solo. Non è subito attuativo. Ci sono oltre 4 milioni e mezzo di italiane che non riescono a curarsi. Lo faranno un giorno. Noi facciamo un decreto elettorale in cui rimandiamo a 7 decreti attuativi che non si sa quando si faranno. Le risorse sono esigue. Ci sono circa un milione, due milioni di euro per un organismo di controllo e poi circa poco più di 150 milioni di euro, mentre noi proponiamo distanziare miliardi per arrivare al 7,5% del PIL. E infine non c'è nessuno, purtroppo, superamento del tetto o del personale, perché di fatto non si supera. Perché per il 2024 e fino all'attuazione dei nuovi decreti si può arrivare al 15% dell'incremento del Fondo Sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Però poi, dal 2025, con uno o più decreti, si stabilirà la nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale, mentre la proposta Schlein definisce in modo accurato il fatto che non deve essere più applicata la misura sul tetto di spesa per il personale del sistema sanitario nazionale. Questo per fare in modo che si possa immettere da subito nuove risorse e nuovi operatori sanitari. A noi è sembrata abbastanza curiosa la richiesta di riterare questa legge. Posso capire che il Governo fa la propria attività politica, ovviamente esecutiva, legittimamente, anche di iniziativa legislativa, ma i decreti non sono sovrapponibili e non si può prendere in giro per sempre il Paese. Si può fare per un po', ma poi alla fine nessuno si può prendere in giro per sempre. Questa è una citazione di un vecchio Presidente degli Stati Uniti, ma potrebbe valere benissimo. E credo che l'ipocrisia dobbiamo lasciarla fuori da queste aule, perché queste aule in questi giorni non hanno dato una bella immagine di sé. C'è un astensionismo molto forte. E credo che anziché fare sempre questa retorica ipocrita di dire una cosa, nasconderla, fa finta che sia un'altra, serve meglio dire la verità. Non è una scelta politica valorizzare la sanità pubblica. La scelta politica è quella di favorire la sanità privata, con un regime fiscale che aiuta la fuoriuscita di medici con la flat tax incrementale, con il fatto che anche sulle liste d'attesa si favorisce il privato, con pochissimi finanziamenti a tutela del sistema sanitario nazionale. Ecco, noi vogliamo altro. E resisteremo su questa legge, vi invitiamo a votarla e a riprendere in considerazione la vostra proposta se davvero volete abbattere le liste d'attesa sbloccando le assunzioni e favorendo la sanità pubblica, perché altrimenti significa che non volete un'Italia in cui si sicuri con la tessera sanitaria ma con la carta di credito. E noi quell'Italia non la accetteremo ma la combatteremo sempre. Grazie.